Un importante intervento chirurgico di ortopedia è stato eseguito dall'equip del dottor Bruno Di Maggio presso il presidio ospedaliero di Piedimonte Matese su un'anziana paziente con grave pseudoartrosi dell'omero sinistro alla quale è stato applicato un chiodo endomidollare mediante l'utilizzo per la prima volta in questo ospedale di cellule staminali prelevate direttamente dalla paziente che ora sta bene. Soddisfazione naturalmente anche da parte dei vertici azientali. Il dottor Bruno Di Maggio ci ha spiegato in cosa consiste l'intervento, quali sono i vantaggi per il paziente e quali orizzonti apre in chirurgia ortopedica questa importante tecnica. Allora dottore Di Maggio, primo intervento in ortopedia con l'uso, l'utilizzo delle staminali a Piedimonte, un traguardo credo molto importante no? Sì, in realtà l'utilizzo delle staminali è una tecnica utilizzata già da molto tempo in molte chirurgie, tra le quali prevalentemente la chirurgia plastica e la chirurgia maxillofacciale. Qui da noi a Piedimonte non era mai stato fatto ed è stato eseguito in una paziente affetta da una pseudoartrosi di omero. In realtà la pseudoartrosi è una malattia che nasce da un fatto traumatico, la paziente aveva riportato una frattura di omero, ma per motivi a noi ignoti, nonostante fosse stata operata già due volte, non era giunta consolidazione del focolaio di frattura. In questi casi qua la tecnica è molto impegnativa perché naturalmente bisogna andare ad aprire il focolaio di frattura, non poter più eseguire un intervento come noi diciamo a cielo chiuso e pulire tutto il focolaio della frattura e poi riempirlo, oltre che stabilizzarlo meccanicamente perché naturalmente la meccanica è sempre la cosa più importante, riempirlo con questo stimolo, dare uno stimolo biologico con questo previo di cellule staminali. Noi l'abbiamo eseguito dall'addome della paziente, quindi praticamente una sorta di liposuzione, quindi assolutamente in maniera assolutamente a ciclo chiuso, senza alcuna manipolazione dell'estratto ematico che viene poi pulito attraverso questo ciclo chiuso e poi inserito all'interno del focolaio di frattura. Ecco dottore, qual è il vantaggio tra un intervento diciamo tradizionale e invece con l'utilizzo delle staminali? I vantaggi sono molteplici. Il primo certamente è che rispetto alla tecnica chirurgica tradizionale che prevede che si possa utilizzare un osso sempre autologo, cioè dello stesso paziente, la maggior parte dei prelievi sono prelevati dal bacino ma risultano molto molto dolorosi per il paziente perché il sito di donazione è estremamente dolente nei giorni successivi. Questa è una tecnica sostanzialmente incruente perché non dà dolore, l'unica cosa che bisogna osservare è un vendaggio di tipo addominale come se avessimo fatto un piccolo intervento di chirurgia addominale per 4-5 giorni per evitare l'ematoma post chirurgico. Poi c'è la mancanza di assoluta traumaticità del paziente direi perché comunque la maggior parte dei pazienti queste staminali vengono proprio prese dal tessuto adiposo e tutti noi abbiamo tessuto adiposo sull'addome quindi è una cosa che noi in realtà non facciamo altro che prelevare e trasferirlo in un altro sito. Ecco un intervento del genere, autore di maggio, che orizzonti apre a livello di chirurgia ortopedica? Tanti perché noi ortopedici siamo abituati a dover sostituire spesso osso che manca con osso e ripeto come dicevo prima l'osso può essere peso sia dal paziente ma può essere peso anche da altre parti o dal banca dell'osso o addirittura da cadavere. C'è una lunghissima letteratura che parla di innesti ossei o comunque di preparati fatti con altre tecniche. Io ritengo che questo sia lo stimolo biologico più naturale, più fisiologico, anche meno traumatico per il paziente specialmente se abbiamo pazienti con una certa età che non sopportano diciamo altre tecniche un po' più invasive e certamente è un ulteriore stimolo che viene dato a una frattura che tende un po' ad addormentarsi e quindi a non arrivare a consolidazione.